Sacco della macchina di galoppo, il numero 1, Nectar of Stars. Al comando si porta Olifante nei confronti di Nocchiero M, poi Mico e Goldfinger M. L'errore di Olifante dopo 200 metri volati in 13,8. E così Nocchiero M in vantaggio lungo l'arco della prima curva, la squalifica per Nectar of Stars. In seconda posizione segue Mico, che precede Goldfinger M, poi Osur Flying, Milingo. 31, i primi 4, va a riprendere in mano Nocchiero M. Davanti alle tribune seguito da Mico e Goldfinger M, poi in quarta posizione Osur Flying. Tutti in fila indiana dopo 600 metri in 46,1. Nocchiero M che gioca con il cronometro a questo punto. Tutti in fila indiana alle sue spalle, a tabellone anche Olifante numero 3. Si va dopo 800 metri passati da Nocchiero M in 1, 2, 9, 16, 7 la frazione. Si viaggia da 1, 18, 7. Mico che accenna a mettere il muso di fuori, ma Nocchiero fa buona guardia e si distende. Il completamento del chilometro passato da Nocchiero M in 1, 17,5, 14, 6 la frazione. Mico rimane in seconda posizione, poi Goldfinger M, Osur Flying e Milingo che si affaccia a largo. Quando si va all'imbocco della curva finale, Nocchiero che accelera 1,5 meglio di Mico. E 1, 2, 1, 31, 8, 14, 2 il paletto, 29 scarsi il terzo quarto. Nocchiero che ha sparato a palo lontano per prevenire la retta che sarà un calvario. Mico si avvicina, Osur Flying anticipa Bilingo e va su Goldfinger M. Nocchiero M in vantaggio, inseguito da Mico, a 150 al palo. Nocchiero che è un po' stanco, ma Mico abbozza. Osur Flying che è a largo, Nocchiero M che nel tratto conclusivo la porta a casa davanti a Mico. Mentre al terzo posto, di dentro Goldfinger M è apparigliato da Osur Flying. Tretto e mezzo, la chiusa 2, 2, un filo abbondante del totale, 1, 16,5. La media al chilometro ha fatto bene i conti. Nicola Tortorella che porta a casa il successo con Nocchiero M. Si trova al comando sull'errore di Olifante all'imbocco della prima curva. Riesce a fare tattica M-Lina nei primi 800. Spara tutto di là, la retta ovviamente è sempre in salita, ma Mico non è riuscito mai nell'aggancio completo. Può essere solo secondo, mentre per quanto riguarda il terzo posto, fotografia tra il numero 6, Goldfinger M, e il numero 5, Osur Flying.